Che dire, fra poco, il 19 febbraio, esce questo singolo in vinile a 45 giri, bello eh, roba da collezionisti, numerato, autografato, eccetera. Due lati A, un graffio coerente, io sono un graffio coerente. Dentro ci stanno gli amici che cantano e collaborano con me, Luca Urbani, una vecchia conoscenza anche per chi mi segue, e poi con piacere vi dico che canteranno con me Francesco Bianconi e Rachele Bastreghi, cioè Baustelle. A fra poco, ciao, a presto, forse. Di più, di quanti anni hai, sei un graffio in questo cielo.